ciao a tutti bentornati su reparto corse tv vorrei ricordare i nostri canali social e il nostro sito naturalmente in questo video parleremo del bmc dia l'airbox di partenza della gamma bmc che vi faccio subito vedere è questo qui è un airbox quindi in pratica questo va a sostituire la scatola filtro di serie è un prodotto che ha secondo me i suoi punti di forza nell'essere innanzitutto poco costoso considerato che si parla di un prodotto della bmc quindi probabilmente la casa più famosa di filtri aria però il suo punto di forza principale è che è un ibrido ovvero si pone a metà strada tra gli airbox chiusi e i filtri a cono aperti però c'è un accessorio molto interessante che questo qui che permette di far diventare questo prodotto ibrido un airbox totalmente chiuso e naturalmente possiamo poi metterli il tubo qui il tubo qui è un prodotto che consiglio a tutti no perché perché qui veniamo al punto debole principale è un airbox che va a sostituire una scatola filtro di serie in plastica con un'altra scatola filtro in plastica io preferisco sostituire la scatola filtro in plastica con la scatola filtro in carbonio ok chiaramente la scatola filtro in plastica ha un filtro in carta questo invece è chiaramente un filtro della bmc in cotone molto più performante però non va bene per tutti i casi ma può andar bene nel momento in cui abbiamo una situazione di vano motore in cui comunque non riusciamo a far arrivare tutta quest'aria fresca al motore e allora non serve tantissimo il filtro in carbonio perché il filtro in carbonio è utile se gli fai arrivare aria fresca il filtro in carbonio te la mantiene fresca perché il carbonio è un isolante migliore della plastica se invece tu non puoi in alcun modo far arrivare particolarmente aria fresca a quel filtro beh può essere magari il caso di non investire tantissimo in un airbox in carbonio ma magari valutare un prodotto come questo parleremo ancora di tutti gli altri prodotti della bmc e delle altri marchi famosi che noi trattiamo ma non solo quindi continuate a seguirci al prossimo video ciao ciao